Una tappa ad Arezzo, una città importante, la Mille Miglia suscita sempre grandi emozioni. Una città importante che oltretutto tre anni fa ci ha accolto in modo magnifico. Quest'anno ci permette anche di fare un controllo orario in piazza grande e quindi sarà ancora di più un palcoscenico per i nostri 400 equipaggi di auto storiche anticipato da 110 Ferrari. Abbiamo anche un gruppo di auto elettriche, uno e ventino di modelli unici che faranno da corollario a questo museo viaggiante. Dopo tre anni torna la Mille Miglia, quella che viene definita la corsa più bella del mondo. Per Arezzo è un'ottima opportunità di promozione, chiaramente perché solo considerando i membri dell'equipaggio arriveranno in città circa 800-900 persone che avranno modo di vedere, di apprezzare, speriamo, la nostra città. Stiamo lavorando a un progetto a scopo turistico con la Fondazione In Tour che è parte dell'organizzazione di questa giornata e quindi faremo di tutto per sfruttare questa occasione che è ovviamente un'occasione di forte richiamo. Torneranno ad Arezzo con la Mille Miglia nella nostra città ospitati per la seconda volta in tre anni. Questo significa che i risultati che abbiamo dato in termini organizzativi la volta scorsa nel 2018 sono risultati assolutamente positivi e quindi si torna ad Arezzo secondo una promessa che c'era stata fatta ed è stata mantenuta. Poi Arezzo quest'anno è contornata a livello di passaggi da due spalle, come ho detto prima, importantissime che sono Cortona e Montevarchi, quindi è tutta la provincia di Arezzo che in realtà si presenta agli occhi dei partecipanti e come ricordavano gli organizzatori il numero di partecipanti non italiani è più elevato che non di quelli italiani, quindi questo è anche un grandissimo vettore pubblicitario per la nostra bellissima città.